carissimi continuiamo continuiamo a ben prepararci attraverso questa piccolissima meditazione al natale siamo al 23 dicembre e vogliamo prendere la figura del precursore in questa giornata accanto a maria una delle figure che sono alla ribalta in questo tempo di avvento c'è quella di giovanni il battista chiamato dalla tradizione cristiana precursore cioè colui che corre innanzi gli evangelisti lo descrivono con dei tratti forti e rudi egli viveva nel deserto si cibava con del nutrimento particolare locuste e miele selvatico ma soprattutto predicava con toni forti con un linguaggio particolarmente duro ed esigente invitando alla conversione e alla penitenza il più grande uomo mai esistito lo definisce gesù stesso e così doveva apparire giovanni il battezzatore alle folle che scendevano da gerusalemme per ascoltarlo un uomo consumato dalla penitenza una sceta coerente ed intransigente un profeta pieno di fascino un uomo dedito alla preghiera e alla meditazione ascoltato per la sua riconosciuta autorevolezza un uomo che fuggiva agli onori riservati agli uomini di religione che abitavano nel deserto che abitava nel deserto in molti lo raggiungono nei pressi del giordano per ascoltare la sua parola urticante non appeli sulla lingua possiamo dire il battista non deve compiacere nessuno invita tutti alla conversione persone comuni ma anche soldati pubblicani farisei sadducei la conversione il battesimo di penitenza sono il contenuto primario della sua predicazione ma lo scopo fondamentale della sua missione e l'annuncio del messia gesù di nazareth nel vangelo di giovanni è lui stesso che definisce attraverso un'immagine la sua vocazione lo sposo è colui a cui appartiene la sposa ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta esulta di gioia alla voce dello sposo mentre predica e battezza nascosto fra i penitenti gesù avanza per ricevere il battesimo di penitenza pur essendo senza peccato giovanni è turbato da questo gesto ma gesù non retrocede la voce del battista e la sua mano puntano dritte su quell'uomo che si mescola la folla dei penitenti e dice ecco l'agnello di dio che toglie il peccato del mondo il battesimo che egli compie su gesù si trasforma in una grandiosa manifestazione divina l'ultimo tratto della vita del battista e nella donazione totale nello stile dei grandi profeti gli vangeli infatti ci riferiscono la passione e la morte di giovanni in un racconto ampio e carico di venerazione egli è rimasto fedele fino alla fine con grande coerenza e dignità realizzando così la sua missione la sua è stata la storia di un uomo straordinario che aveva avuto la coscienza della grandezza della sua vocazione ma anche del limite della sua missione infatti egli si definisce la voce che grida nel deserto egli si prende per dio non ha nessun delirio di onnipotenza cioè egli non si prende scusate per dio e quindi per infatti non ha nessun delirio di onnipotenza è come un suggeritore e non si non così il nostro mondo noi ci sentiamo travolti dal delirio di onnipotenza deve riuscire a fermarti valere inoltre si definisce l'amico dello sposo sa tirarsi indietro quando lo sposo arriva non c'è nessun protagonismo egli deve crescere io diminuire riconosce giovanni battista il suo posto all'urde abbiamo la splendida testimonianza di bernardette quanto dice a chi la interrogava non sono incaricata di farvelo credere ma solo di dirvelo inoltre quando la gente voleva riempirla di doni essendo lei e la sua famiglia molto povera ha sempre fortemente rifiutato la testimonianza del battista il precursore e di bernardette ci aiutino ad aprire il cuore al signore che viene come l'agnello di dio che toglie il peccato del mondo e ci donino la gioia e la pace interiore san giovanni battista prega per noi nostra signora di l'urde prega per noi